Curiosità familiari, Rose Villan e il rapporto speciale con il fratello Alessandro Rose Villan, la cantante milanese ormai famosa per il suo brano Click Boom al Festival di Sanremo, non vive solo di musica, proprio come tutti noi, ha una vita privata colma di storie e rapporti importanti, su tutti quello con il fratello Alessandro. Scopriamo insieme cosa rende il loro rapporto così speciale attraverso aneddoti e ricordi. Quando si parla di Rosa Villani, in arte Rose Villan, la mente corre subito alle sue canzoni che ci fanno cantare e ballare. Ma dietro le quinte, c'è una storia toccante che ha segnato la sua vita. Nel 2017, il dolore per la perdita della madre ha avvicinato Rose al fratello minore Alessandro in un modo nuovo e potente. Questo dolore condiviso ha tessuto tra loro un rapporto indissolubile. Unione nata dalla perdita, è in questi momenti di sconforto che si scopre quanto possa essere importante il sostegno di un familiare. Rose ha sempre espresso un profondo affetto per Alessandro, enfatizzando come, in seguito al lutto, la loro complicità sia diventata ancora più forte. La morte di mia madre mi ha legato a mio fratello, ha condiviso in più occasioni. Insieme, si supportano e condividono ricordi e aspirazioni, facendo fronte comune di fronte alla vita. L'amore per la musica ha giocato un ruolo importante in questo legame, diventando un canale espressivo per entrambi. Rose racconta di come la madre, figura chiave della sua crescita artistica, le trasmettesse l'amore per le melodie sin da quando era in fasce. Quell'amore è il filo conduttore che continua a unire la famiglia anche attraverso le sue canzoni. Due gocce d'acqua, il profondo legame tra fratello e sorella ha riscosso attenzione anche tra i fan, soprattutto dopo la pubblicazione di un simpatico video sui loro profili social. Nelle immagini, oltre alla complicità è evidente una marcata somiglianza fisica tra i due, tanto da essere spesso scherzosamente identificati come fotocopie. Nonostante la crescente fama di Rose, Alessandro resta un punto di riferimento ineludibile nella sua vita, offrendo un supporto discreto e sincero lontano dai riflettori. Il legame familiare che li unisce, insieme al comune amore per la musica, continua a segnare il loro percorso, ricordandoci che la famiglia è un valore irrinunciabile. La vicenda di Rose Villan e suo fratello Alessandro, ci mostra che le sfide e le avversità possono rafforzare i legami fraterni, trasformandoli in una fonte di ispirazione e coraggio. Ci insegnano che, al di là del successo e della notorietà, le nostre radici e i rapporti affettivi sono pilastri della nostra esistenza. E voi, come credete che le esperienze condivise modellano i legami tra fratelli? C'è forse un legame invisibile che ci unisce nei momenti difficili? La famiglia è un rifugio in un mondo senza cuore, scriveva Christopher Lash, e non c'è esempio più tangibile di questa verità nel legame tra Rose Villan e suo fratello Alessandro. La scomparsa della loro madre ha lasciato un vuoto incolmabile, ma ha anche rafforzato una connessione già profonda, trasformandola in un pilastro su cui entrambi si appoggiano nelle gioie e nelle difficoltà della vita. La storia di Rose e Alessandro ci insegna che, anche nei momenti più bui, può nascere qualcosa di straordinariamente forte. La loro vicinanza, evidenziata dalla somiglianza quasi speculare, va oltre il legame di sangue, diventando un simbolo di resilienza e di amore incondizionato. In un mondo dell'entertainment spesso percepito come superficiale, la loro storia ci ricorda l'importanza delle radici e dei legami autentici. Rose, con il suo successo e il suo talento, non dimentica da dove viene e chi le sta accanto, dimostrando che nella vita, come nella musica, i veri valori non passano mai di moda.